Cagniero In la seconda posizione col personale 6,88 per la tramona sportiva di Carveli, Leonardo Cagniero Partita la prima serie degli 800 metri, maschili ovviamente in un'altra posizione col personale di Kavassi, Francesco Stoppa, Matteo Cameta, Giacomo Simerini e Paolo Pugazzoli di Manopaldia, Lorenzo Gerotti, giocante percibio il torsizio, partito d'Europa, con lo senso del Pinto, Tachiziano Barsi di Gampi, partito d'Europigiano, chiudo il Posi, il Pente, con la testa per la principi di Sè, e abbiamo un po' più da piedi, un partitifico portonese. Per me, con l'Ossidiano, per me, per me, con la Chiarota, passaggio dal 57 al primo giro. Posi, nel comando della Chiarota, è quella che si considerava con il cuorello appeso, che dovrebbe essere percorrata, solo per questo per amici, nella prisione, per andare a fidare un po' più a perdona, la prisione, per essere un'intermissale, anche il Pente, il Pente, Giacomo Simolini, con la ragione, che si raccomanda di questa, la prepondizione, in questa, questo 100 metri, ma, questo, i po' del Genni, no, si vanno ancora, per, tanto, per andare a fare, a Tiziano! A Pente! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!